I servizi di prevenzione messi in atto dai carabinieri di Sansepolcro stanno portando i loro frutti. Solo nell'ultima settimana sono state arrestate tre persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'ultimo episodio della scorsa notte, quando i militari del nucleo radiomobile hanno sorpreso un ventenne biturgenza nel preciso momento in cui stava vendendo ad un coetaneo, anche lui del borgo, dell'Hashish. Ciò avveniva in una via del centro storico. L'accertamento, sviluppatosi dopo un appostamento approntato dopo aver notato atteggiamenti e movimenti sospetti, non si è limitato al sequestro dei 10 grammi di droga del momento. I carabinieri infatti hanno voluto proseguire il controllo e dopo una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto un'ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, già suddivisa in dosi pronte alla vendita, ed anche un bilancino di precisione. L'uomo è stato immediatamente arrestato e portato in caserma per la stesura degli atti ed il fotosegnalamento. L'autorità giudiziaria inquirente Aretina, pur concordando con l'operato dei carabinieri, ha disposto la liberazione dell'arrestato, ai sensi dell'articolo 121 del codice di procedura penale, segnalato alle competenti autorità un altro ragazzo che ha acquistato la sostanza stupefacente di 100 euro.